Mario, che differenza c'è tra la fallacia, cioè l'errore di ragionamento, e il bias, la distorsione cognitiva? Che poi è il tuo libro gemello, perché tu dicevi questo Natale ho letto e pubblico il libro Imparare a ragionare sulle fallace e poi uscirà un altro libro sulle distorsioni cognitive. Sì, proprio così, erano nati insieme, cioè io pensavo di fare un libro unico con due parti, le distorsioni cognitive prima o bias e poi le fallace, però poi quando ho riempito il mio librone che superava le mille pagine ho detto è impossibile e allora l'ho diviso e sono stato contento anche di questa divisione perché sono due argomenti del tutto differenti, si intersecano ma sono differenti, cioè come i fratelli gemelli, cioè sono per molti aspetti simili ma per molti altri aspetti differenti e allora bisogna individuare la differenza. Allora, la differenza è questa, la fallacia proprio dal verbo fallire, fallire, fallimento è un vero errore, errore, sbaglio, scorrettezza di ragionamento, cioè stai dicendo una cosa non valida o falsa. Allora, se tu dici tutti siamo delinquenti, tutti siamo assassini perché potenzialmente siamo... è una falsità perché innanzitutto il tutti non l'hai verificato, primo. Secondo, non puoi verificarlo. Terzo, non è vero in realtà perché non hai nessuna prova, fammela vedere, ma tu stai ragionando in potenzialità, ma la potenzialità non esiste, non c'è. Possiamo ragionare sui dati, vedi? Questa frase è una frase falsa, una frase fallace. Controfattuale, pensiero magico. Controfattuale, controfattuale, si dice proprio cioè non ha prove, non esiste, non puoi verificarla, non hai dati, quindi buono. Allora, valuta le informazioni in base ai dati. Allora, per capire se è una fallaccia o meno, la domanda è ho le prove di questo? Se ho le prove, portale. Ma non le prove potenzialità in futuro, perché non lo sai chi l'ha detto. Io posso diventarlo, ma posso anche non diventare. Oppure, fai... tante volte uso questo tipo di ragionamento potente. Dico, prendi questa frase, tutti siamo delinquenti, e digliela ad Abele. Abele cosa ti direbbe? Direbbe, ma tu sei scemo, guarda che quello ha ucciso me. Non siamo tutti delinquenti. Oppure, dillo a tutti quelli che sono stati massacrati nei campi di concentramento nazisti. Dillo, tutti siamo delinquenti. Cosa ti risponderebbero i sei milioni di persone massacrate? Tutti siamo delinquenti? Dicebbe, no, sta buono. Quindi, queste frasi che si dicono, le hai ascoltate tu, le ho ascoltate io, e mi sono messo le mani così tra i capelli per dire, mamma mia. E queste poi hanno le visualizzazioni. Ogni visualizzazione è una conferma di una fallaccia, quindi quando uno mette mi piace, sta attento a che lo mette. Purtroppo non c'è la suddivisione del video in capitoli per dire sono d'accordo qua, qui sì, qui no, qui sì, qui no. Quando metti il like, sta attento che puoi dare un'informazione all'algoritmo di YouTube per dire quello che ha detto è vero. Quindi l'algoritmo non è una persona, è un algoritmo, è una funzione matematica che dice se ha ricevuto più visualizzazioni allora questo lo riproponiamo perché è migliore o addirittura può essere vero, ma non è così. Quindi la fallaccia è un errore di ragionamento che dipende da te e da me. Siamo responsabili delle distorsioni cognitive. Non siamo responsabili perché sono meccanismi automatici. Prendi la simpatia e l'antipatia. Su questo come facciamo? Non siamo responsabili. Siamo responsabili quando ci facciamo prendere dalla simpatia o dall'antipatia. Per cui dobbiamo dire alt, ferma. Sento simpatia però mettiamola da parte un momento e valutiamo le cose come stanno. Siamo proprio responsabili se ci facciamo cavalcare dalle distorsioni. Le distorsioni non dipendono da noi, sono automatiche, sono l'aiuto a livello positivo, sono l'aiuto che il nostro cervello ci dà, quindi non è che ci inganna. L'aiuto che il nostro cervello ci dà, che di fronte a molteplici informazioni, a un gran numero di informazioni, le sintetizza, le riduce per poterci orientare meglio. Perché non possiamo valutare ogni persona che incontriamo e fare l'analisi di personalità del suo codice linguistico del suo codice non verbale. Non possiamo dei suoi valori, non possiamo. E allora con la simpatia e antipatia sono scorciatoie brevissime per orientarci subito, perché in pochi secondi dobbiamo interagire. E il nostro cervello riduce tutto e ci dà questo. Ma è fallace, è scorretto, non è corretto ragionare così. E allora dobbiamo dopo pensarci, ripensarci e aggiustare il tiro. E così anche l'antipatia non la controlliamo. Però è un meccanismo del nostro cervello, meglio cervello, emozioni, personalità, per ridurre tutte le informazioni e considerare soltanto questa per orientarci subito. Ma dopo questa prima impressione, che si chiama proprio distorsione della prima impressione, o ancoraggio, o ancora, perché ci ancoriamo alla prima impressione, questo ci è sembrato simpatico dieci anni fa, continua ancora a sembrarsi simpatico. Ed è una distorsione. Quello c'era sembrato antipatico dieci mesi fa e continuiamo ancora a considerarlo antipatico. anche di fronte a nuove informazioni che tralasciamo. Sono errori di percezione e di valutazione che ci possono condurre a errori di scelte. Un altro esempio è l'effetto, per esempio, l'effetto alone. Noi pensiamo che una persona che è competente in un ambito sia competente anche in altri. Non è detto. Un medico che è competente in immunologia non è detto che sia competente anche in cardiologia. È sempre medico, ma non è competente in altri. Se poi un medico che è competente nella medicina comincia a esprimere opinioni politiche anche sul sistema politico o sui partiti politici, dobbiamo dire alt, fermati. Qui stai parlando come singolo cittadino, non come medico, non come esperto. Perché c'è l'effetto alone? Noi pensiamo che una persona che sia elegante pensiamo anche che abbia buon gusto per l'arte. Non è detto. Può essere elegante per l'abbinamento del proprio vestito, dei propri abiti. Ma forse sull'arte non sa niente. Pensiamo che una persona sia precisa nel suo lavoro e pensiamo che possa essere precisa anche nei rapporti interpersonali. Non è detto. Può essere contabile e preciso. Ma sui rapporti interpersonali può essere disordinato. Cioè noi estendiamo delle caratteristiche di un campo a tutto il resto. Anche questa è una scorciatoia sbagliata. L'altra scorciatoia è quello di avere in mente le ultime cose che abbiamo in mente, ci guidano a generalizzare su quello che sta avvenendo. Per esempio, se abbiamo, dico una cosa banale stavolta, se abbiamo avuto 15 giorni di giornate brutte, generalizziamo e diciamo che non sono più le stagioni di un tempo, non è più l'autunno di un tempo. Calma, sono 15 giorni. Hai valutato le varie statistiche di tutti gli autunni degli ultimi 30 anni? No. Tu hai in mente solo le tue ultime 15 giornate qui e le stai utilizzando per valutare quello che sta avvenendo e stai generalizzando, dicendo non ci sono più le stagioni di un tempo. Oppure, se molti di noi hanno vissuto, hanno sentito dalla televisione, molti incidenti aerei o molti incidenti di auto o molti incidenti di adolescenti che hanno fatto degli incidenti uscendo dalla discoteca, generalizziamo e diciamo questi ragazzi sono tutti irresponsabili. Calma, fai un'analisi quanti incidenti, che è percentuale. Allora utilizziamo le ultime informazioni come criterio per orientarci nel mondo, ma sono solo le ultime, quelle più disponibili qua. Faccio un esempio sulla relazione di coppia che mi capita di analizzare in terapia. Tante volte arrivano le persone in crisi di coppia, dopo 20 anni in crisi di coppia e dicono dottore va tutto male, è andato tutto male. Dico un momento, da quanto tempo state in disaccordo? Eh, gli ultimi sei mesi, dico scusa, gli ultimi sei mesi stanno inquinando gli ultimi diciannove anni del passato? Distingui gli ultimi mesi, le discussioni, il disaccordo degli ultimi mesi, ma salva i diciannove anni. Nei diciannove anni precedenti è stato tutto... Eh no dottore, anzi, e allora? Perché le emozioni negative di adesso ti stanno facendo vedere brutto tutto il passato? Vedi? È una distorsione. Certo, di queste sono frequentissime in ambito terapeutico, ma con tutte le persone che parliamo abbiamo usato anch'io la parola tutti, hai notato? Cioè, le persone che, con la maggior parte, e correggiamo, con la maggior parte delle persone che parliamo usiamo queste distorsioni perché riducono il linguaggio a fatti condivisibili, perché non possiamo valutare proprio tutta la nostra esperienza e ci dobbiamo soffermare su questo e su quello. Quindi la differenza, in breve, la differenza è le fallace sono proprio errori di ragionamento di cui siamo responsabili perché siamo noi che le creiamo e non diamo le ragioni delle nostre informazioni opinioni. Le distorsioni invece sono delle caratteristiche automatiche della nostra mente che ci aiutano a ridurre l'ammasso immenso di informazioni e ci offre delle scorciatoie utili, utili ma fallaci, utili ma scorrenti, utili ma non valide e dobbiamo, dopo che ce ne accorgiamo, fermarle e dire alt, 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 alt. Allora, ragionamento sbagliato fallace in maniera tecnica, anche se poi la parola aggettivo fallace la usiamo per dire non valido, la possiamo usare anche, però le fallace argomentative logiche o informali sono errori, invece le distorsioni sono soltanto distorsioni, come per esempio io posso vedere un albero che mi sembra una persona o un uomo questa è una distorsione, non è un errore di ragionamento, ecco, o una persona mi sembra antipatica è una distorsione, ma non un errore di ragionamento, può diventare un errore di ragionamento quando mi dico, quando dico questa persona è antipatica e tutto quello che dice è falso, questa è una fallaccia, allora hai visto che da una distorsione sono passata a una fallaccia, e ci sono molti passaggi questi, però io alcune volte nel libro li sottolineo, altre volte no, poi per chi vuole approfondire ci sono molte altre cose da aggiungere, però è sufficiente questo per orientarsi bene nella vita. Infatti Mario è veramente affascinante questo argomento, se ci si informa su web, se si caricano contenuti, se si ha un datore di lavoro, se si parla coi clienti, se si è genitori, è veramente utilissimo avere questa conoscenza di base delle distorsioni e delle fallace. E poi io vedo anche come te l'aspetto politico, per essere migliori cittadini, per non fare conversazioni, discussioni polarizzate, che non portano a niente, che portano solo disagio, sofferenza e che allontanano i componenti delle comunità. Invece mai come oggi c'è bisogno di comunità e quindi di stare insieme, di confrontarci certo con anche opinioni diverse, ma questo è sempre stato secondo me un arricchimento. naturalmente, però come vedo io, credo anche tu, la discussione al confronto è anche con l'apertura a cambiare idea se i fatti cambiano. Infatti io mi allarmo sempre quando in una conversazione con qualcuno, con più persone, sento, ah io non importa che cosa mi dici, non importa che cosa succede, io la penso così. Anche io ho opinioni, no? Quando studiavo in Inghilterra mi dicevano you are a very opinionated women, woman, e poi dicevano women are very opinionated, cioè hai un'opinione. Sì, l'opinione ce l'ho, però se i fatti cambiano e se mi dimostri con il ragionamento e con i fatti che è sbagliata, sono disponibili ad accettarlo. E spero che anche il pubblico che ascolta questo video sia curioso di mettersi alla prova, di autoosservare le proprie distorsioni e fallace e poi di diventare detective anche delle fallace che si ascoltano ogni giorno. Io ci vedo anche sinceramente un lato divertente, perché ce ne sono talmente tante che alla fine della giornata se si fa l'esercizio che proponevi tu di nominarle e contarle, magari scriverle sul diario, sull'agenda, su un pezzo di carta, è veramente sconvolgente quante ce ne sono, quante ne accettiamo sotto traccia. Tu hai sottolineato il lato divertente, io voglio sottolineare il lato professionale. Oggi si dice qual è una nuova professione? Bene, lancio una io, non voglio diritti d'autore, ma c'è una nuova professione che possono svolgere i ragazzi e le ragazze, quella di diventare detective di fallace e dove possono lavorare dappertutto. Ecco i campi, presso le case editrici. Allora, nelle case editrici c'è il correttore di bozze, l'editor, sono due cose differenti, ma ci potrebbe essere anche il detective di fallace. Cioè uno ti legge il libro e ti sa individuare, caro autore, che chiamiamo caro Giovanni Rossi, guardi che qui lei ha commesso la fallacia di generalizzazione, qui ha commesso la fallacia di causa unica. Se vuole, se vuole, le può correggere o aggiustare il tiro. Altrimenti lasciamo stare. Quindi nelle case editrici, presso i giornali, fare il revisore di fallace di alcuni giornalisti importanti. Prendiamo i giornalisti del giornale che ti piace di più a te o a me, eccetera, e questo revisore dice questo articolo che è importante, l'articolo di fondo, può essere revisionato sulle fallace, qui c'è questo tipo di fallace, qui c'è questo tipo di fallace, qui c'è questo tipo di fallace. Oh, c'è il lavoro dappertutto. Poi c'è il lavoro sui social, cioè i vari canali, quelli potenti che hanno un pubblico però su base informativa e non manipolativa. Può assumere una persona che è un detective di fallace. Lo stesso youtuber che ha milioni di seguaci può dire sì, ti assumo, analizza le mie fallaci e aiutami a confutarle e a migliorarle. La politica. Tutti i politici, quindi 600 persone che possono trovare lavoro presso ogni politico. Se ogni politico assume un ragazzo o una ragazza o un professionista di detective di fallace e dice valuta le mie fallace in modo che il mio discorso sia in Parlamento, sia in tv, sia corretto, ma valuta anche le fallace del mio avversario e perché no? Allora questo ti può fare analisi di fallace. Quindi vedi oppure le fallace all'interno delle organizzazioni di lavoro. Sì, te lo stavo dicendo, le organizzazioni più sono complesse. Un imprenditore può dire all'interno della nostra comunicazione con l'esterno individua se nella nostra comunicazione ci sono fallace o meno. Quanto lavoro c'è, come anche nella politica. Io per esempio, se mi pagassero, potrei fare, se uno mi dice prendi quest'uomo politico, chi vuoi, chi vuoi, perché per me è indifferente. Prendi il libro che ha scritto quest'uomo politico o questa donna politico e analizza le fallace con nome e cognome di ogni fallace e in più aggiungi la confutazione. Cioè, come si confuta? Per me è facile perché non è soltanto individuare, devi anche dare la risposta. Per cui posso prendere un libro e dire questo. Ti faccio un esempio. Prendiamo un personaggio che non c'è più, ma è interessante perché ha un nome interessante. Si chiama Oriana Fallaci. Se mi dicessero, Mario, scrivi una lista delle fallace presenti in Oriana Fallaci. Fallati, addio, è successo un gioco di parole. Allora, fai una lista delle fallace presenti nel libro di Oriana Fallaci intitolato Rabbia e Orgoglio. Rabbia e Orgoglio. che è un libro stracolmo, stracolmo di generalizzazioni, stracolmo di fallace. La nostra fallaci nazionale in questo libro ha commesso tante fallaci. Io, se avessi tempo, non ce l'ho, però volendo si potrebbe dire ecco i vari tipi di fallaci. Allora uno dice ma se fai così fallaci, Oriana fallaci non è più questa grande autrice. Certo che in questo libro ha scritto delle cose che non riguardano la sua capacità di creare romanzi. Qui ha espresso opinioni come una cittadina comune e anche terra a terra, perché questo tipo di errori di ragionamento non te l'aspetti da una grande intellettuale quale è stata. Intellettuale, contestatrice, femminista, eccetera. In questo libro è terra terra, ma proprio... Allora tante generalizzazioni, io la chiamo islamofobia, cioè contro gli islamici. Cioè una cosa di... Ma cosa scrive? Ma uno dice ma lei si esprimerà così? No, in quel libro è solo libro di opinioni, non è un libro culturale. Sono opinioni sparate, come altri che pubblicano sparate. Le sparate non sono argomentazioni, le opinioni non sono argomentazioni. Tu puoi dire qualsiasi opinione, da un punto di vista giuridico sei libero di dire qualsiasi opinione, ma da un punto di vista della logica devi dire opinioni fondate, consolidate, validate, solide, altrimenti ti dico stai dicendo stupidaggini. Per queste ragioni, sentili un po'. Qui stai facendo questo? Ok. Allora, come vedi, ho voluto fare questa estensione perché ci tengo molto ai ragazzi, perché uno studente mi ha chiesto ma che lavoro potrei fare? E io gli ho detto fai il detecutivo di fallace. Ma dove? Dico, nella politica, nel giornalismo, nelle case editrici, presso gli autori, gli autori che scrivono romanzi oppure gli opinion leader, presso i vari guru, se accettano, diciamo che bello. Magari, Mario, ci fosse questa professione. Anche perché così vedresti la differenza tra il libro che citavi prima e un libro, faccio un esempio di una persona che ragiona molto bene, secondo me, di Umberto Eco. È una grande differenza. Poi, ripeto, tutti possiamo fare i fallaci, commettere fallace. Umberto Eco, io. E quando io mi sono fatto la domanda, ma anche i filosofi commettono fallace? La risposta è sì. Sì. E ho cominciato a fare la lista delle fallace presenti in Aristotele, in Platone, in Freud, in Jung. Oh, c'è da rimanere. Ma come? Erano così intelligenti e hanno commesso fallace? Sì. Perché? Perché quando un filosofo è troppo innamorato della sua teoria, commette già una fallace. Prima, di autoreferenzialità. Secondo, di soggettività. Terzo, non ascolta le opinioni contrastanti. E questo si chiama cherry picking, cioè scegliere le ciliegie migliori per sé, metterle sul cesto, e le meno buone metterle sotto. È sbagliato. Allora, vedi, anche gli autori che amiamo, che può essere anche Umberto Eco, che può essere anche... Metti tu il nome che ti interessa di più. Però ci sono le fallace. E uno dei libri che vorrei scrivere, se avrò tempo, forza e energia, è proprio le fallace presenti nella psicoterapia. Ma sai quante ce ne sono? Le fallace del tipo ascolta soltanto le tue emozioni. È una fallace di causa unica. E la testa? Quindi è una fallace della psicoterapia emozionalistica. Valgono solo le tue emozioni? Oppure quella del corpo? Ascolta il tuo corpo perché il tuo corpo ti dà la direzione. Solo il corpo e il cuore e la mente e la logica? Allora, vedi quante fallace ci possono essere? Quello sulla psicoterapia lo vorrò fare perché voglio aiutare anche i miei pazienti a trovare terapeuti che abbiano un'impostazione professionale quanto più possibile professionale, cioè logica, che non commettano fallace di unilateralità o di causa unica o di generalizzazioni. ci sono. E allora sto raccogliendo già da un po' di tempo queste fallace. Poi, se avrò tempo, vorrò scrivere proprio un libro, le fallace della psicoterapia. Non per smontare la psicoterapia, ma per smontare i guru della psicoterapia che ho incontrato personalmente, guru che le hanno sparate generalizzando. Non per dire che sono sbagliate come persone. No, come persone erano persone valide, ma la teoria che hanno presentato era una teoria non valida o convalidata. Prendi soltanto la psicanalisi di Freud. Freud ha fatto un grande lavoro culturale, però la psicanalisi non è convalidata scientificamente. Lo so, lo so. Vale come mito, come mitologia, come costruzione culturale, ma non c'è nessuna base scientifica. Lo so, lo so, Mario. Il complesso di Edipo non ha nessuna base scientifica o sociologica. Il complesso di Edipo, il complesso di Narciso, non ha alcuna base scientifica o sociologica o storica. Eppure si dice la nostra società narcisistica. Il complesso di Telemaco non ha alcuna base scientifica. È solo un piccolo aneddoto dell'Odissea, piccolo mito. Invece si dice la nostra società oggi è una società che ricerca il padre e ha il complesso di Telemaco. Sono delle generalizzazioni molto grandi che devono essere contenute. Devi dire io uso questo mito di Edipo, di Narciso, di Telemaco come racconto per capire l'umanità, come uso la favola del lupo e l'agliello per capire i manipolatori. Ma è una favola. Edipo è una favola. Narciso è una favola. Non è la realtà. Non puoi dire società narcisistica da un punto di vista stretto. Sì, sì, è collegata molto con l'arte, la psicoanalisi, è vero. È quasi una forma di arte. È un mito. Allora, come mito, come cultura? Sì, perché non posso mica buttare la favola del lupo all'agnello nel cestino. Assolutamente no. Mi aiuta a capire l'umanità. Aiuta a capire, sì. Può aiutare, può aiutare. Certo, ma questo non... soltanto bisogna dire state attenti, state facendo una generalizzazione che non è valida. E allora, pensare che il proprio eroe, diciamo Freud, abbia commesso questa fallacia colpisce un po', ma non è che me la prendo con Freud. Grande stima. Distingo la persona dalla sua teoria. Non svaluto Freud. Non dico è un fuori di testa. No. Dico grazie Freud per il tuo contributo. Però questa idea è fallace. È superata. Questa idea è una generalizzazione indebita, non dovuta, non corretta. Se vuoi ne discutiamo. Io la penso così. Ecco, questa è la discussione che ci sta. Quindi il mio eventuale libro, Le fallacce della psicoterapia, potrebbe essere un altro contributo, ma devo sempre sperare di avere grande salute per potermi dedicare a questi approfondimenti. Anche noi lo speriamo, Mario, perché lo vogliamo leggere. Tra l'altro ci sono appunto persone che scrivono o illustrano fallace in modo inconsapevole e poi ci sono invece le persone, come dicevi tu, come accennavi tu, che usano proprio le fallace per fare presa o per portare avanti un messaggio manipolatorio. E qui entra in gioco l'etica. L'etica deontologica, professionale, che dovrebbe essere sempre comunque supervisionata. E purtroppo qualche volta non lo è. Però è molto, è molto affascinante questo, questo tema. Tu pensa che a proposito dell'etica, concludo il libro, proprio le ultime sette parole del libro sono proprio riprese da Aristotele per chi volesse sintetizzare il mio libro tre parole. Etos, logos e pathos. Etos vuol dire l'etica, ma anche il rispetto del contesto o dei costumi, come i costumi sociali, cioè il riferimento a questo grande contesto ambientale, però anche la tua etica personale. Quindi l'ethos, il logos, il ragionamento, la validità della logica e il pathos, il coinvolgimento personale, l'appossionarti a quello che stai facendo. Con questi tre elementi che tu hai notato anche in tutto questo discorso che abbiamo fatto, c'è la sintesi del libro. L'ethos, la tua etica, il logos, il tuo livello di ragionamento, il pathos, il tuo coinvolgimento in quello che fai, però guidati dall'ethos e dal logos. Quindi non soltanto emozioni per manipolare gli altri, ma soltanto per dire io faccio questo perché è una bella cosa, condividere queste cose, però valutatele non in base al fatto che a me piacciono o che io parlo in maniera così coinvolgente, emotivo, mi coinvolgo in quello che dico, ma valutatele soprattutto in base all'etica, se ho rispettato l'etica della ricerca, se ho rispettato l'etica del contesto in cui vivo, della società in cui vivo, e poi il logos se ho rispettato il ragionamento logico. Grazie Mario e con queste tre parole io concluderei questo video, ci vediamo dentro il prossimo video, io vi metto giù i link sotto al libro a cui abbiamo fatto riferimento in questa puntata e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.